ragazzi sono le quattro di mattina sono qua da solo all'ikea oddio santo che ansia taglio o ragazzi sono le sette hanno appena aperto hanno appena aperto fatemi scappare 24 ore lasciate 100 mila polizia ma all'ikea all'ikea non vi dico quale perché sennò chiamate però siamo all'ikea che cazzo chiamano cerco simone panetti stai scherzando stai scherzando non l'ho fatto prima che gli dice non è arrivato non è arrivato così non l'hanno sentito è successo proprio nel momento che l'ho detto a te sempre il coltello non credo dai quanto riusciranno ancora a farlo non è arrivato Grazie a tutti